ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a panoramicare oggi è il nuovo tisso heritage nuovo perché è uscito circa un mese fa un mese e mezzo fa e come sapete poi prima che arrivino nei negozi gli orologi ci vuole sempre un certo lasso di tempo solitamente il suo nome completo sarebbe tisso heritage auto cost 1938 ora un nome un po più complicato si poteva dare no sembra quasi bot e i btp che nel loro nome devono avere tutte le informazioni già insite dentro un nome intrinseco noi per per semplicità lo chiameremo tesso 1938 dicevo un orologio che è uscito da poco e che finalmente posso portare sul canale grazie all'amico giacomo della gioielleria pasquale domenici di viareggio che è parte l'ufficiale del canale e mi mette a disposizione gli orologi è concessionario sia di questo marchio che di altri marchi e offre un trattamento di favore a voi che state guardando quindi contattateli tranquillamente che hanno un sacco di orologi e vi trattano bene questo orologio qua ha fatto anche un po discutere perché quando è uscito in cassa da quando è uscito in cassa il calibro eta 28 24 che solitamente non è un calibro che ti so utilizza più usa raramente e saltuariamente lo utilizza quindi in questa operazione nostalgia hanno voluto inserire questo calibro che diciamo che è la generazione precedente power matic 80 che utilizzano di solito e a livello stilistico è la continuazione del cronografo che hanno fatto uscire nel 22 hanno fatto uscire un cronografo heritage il telemetter che era particolarmente al sapore vintage con gli stilemi che troveremo anche su questo orologio quindi con questi tre modelli perché sono tre io oggi vi mostrerò quello con il quadrante beige ma c'è anche quello con il quadrante chiaro e quello con i piccoli secondi a ore 6 sono tutti interessanti tutti più o meno con la stessa cassa e tutti interessanti e quello di oggi che vi presenterò appunto al quadrante marrone ma prima di presentarvelo vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo viller vetta dynawind 39 mm di diametro cassa calibro sellite sv200 che qui vedete con il centurino in in cuoio è un nato in cuoio che mi sono fatto fare dell'artigiano john kustraps che anche lui è parte del canale è un centurino nato in cuoio da 20 sull'ansa da 22 per sfinarlo un po mi piace tanto ho messo quando l'ho provato avete visto il video che l'ho provato là in laboratorio avevo messo il nato leggermente male quindi mi veniva la fibbia qua un pochino qua adesso l'ho centrata l'ho centrata perché basta essendo single pass basta muovere la testa come si vuole e mi piace tanto adesso giriamo la camera guardiamo la panoramica e io vi aspetto qui come al solito per le considerazioni finali anche in questo caso intendo iniziare mettendo sul tavolo i risultati ottenuti dalle misurazioni sul campo diametro cassa 39 mm spessore 11.2 ingombro trasversale al polso 46.1 mm e interasse ansa da 20 mm un orologio veramente sottile ecco come riassumere con una frase gli 11.2 mm sono poi anche ben nascosti in quanto il profilo mette in luce un lato carur alquanto esiguo ed un fondello praticamente a filo con la cassa sottile e proporzionato da qualsiasi punto di vista anche osservandolo dalla vista superiore con quelle ansie sinuose classiche e formali che però non scompaiono alla vista insomma sul polso risulta essere fortemente equilibrato con un diametro umano ed un lag to lag contenuto misure adatte a qualsiasi tipologia di polso e che vanno ad interpretare correttamente gli stilemi retro da cui si ispira lo spirito heritage traslato nel nostro tempo il design della cassa è essenziale semplice ma allo stesso tempo interessante e convincente mi ripeto quel fondello così a filo cassa lo rende slanciato longitudinalmente e la conseguenza è che il profilo non ha bisogno di flettersi eccessivamente riesce a restituirci armonia anche senza andare a cercare particolari curvature verso il basso da notare poi che in un orologio di sifatto spirito verrebbe naturale aspettarsi superfici lucide e tondeggianti no qui ci troviamo di fronte ad una cassa i cui piani sono completamente spazzolati sia superiormente che nella vista laterale devo confessare che su di me questo tipo di finitura crea un certo appeal specie su di un orologio classico come questo lucidata specchio appare invece la lunetta e qui ci sta si crea una sapiente contrapposizione con la cassa è un gioco di luci tale da renderlo sofisticato quanto basta non risulta pacchiano e impreziosisce l'insieme generale c'è poi un piccolo dettaglio da sottolineare ossia la corona di carica che presenta una sagoma tondeggiante poco sporgente un design originale che non mi sembra di aver mai visto sui precedenti ti so in mio possesso e che risulta facilmente manovrabile ma con un minus ossia è presente quel fastidioso scatto fantasma che dovrebbe regolare il datario qui la finestra data non è presente e il fatto che ci sia lo scattino è quindi un errore concettuale tra l'altro se la si ruota si sente chiaramente il disco data scattare direi uno scivolone di tissu non so se il motivo sia dato dal fatto che il calibro utilizzato è un eta 28 24 in luogo del classico powermatic 80 ma tantè sì perché come saltuariamente capita in questo modello si è optato per tornare alle origini ed incassare il buon vecchio 28 24 che altri non è che il genitore del powermatic probabilmente l'operazione nostalgia prende maggior senso andando ad utilizzare un calibro più tradizionale infatti è ben visibile la racchetta di regolazione che non è presente di solito e che caratterizza quei movimenti nei quali non c'è la spirale libera va detto che uno dei punti forti del powermatic è proprio la precisione di marcia nativa e qui per rimanere su quegli standards si è optato per la versione eta 28 24 certificata cost in ogni caso visto il prezzo di listino la certificazione cost è un valore aggiunto non da poco ma giriamo l'orologio ed osserviamo il quadrante al di sotto di uno zaffino leggermente bombato possiamo scorgere il primo elemento caratterizzante ossia una generale sensazione di opacità questa è data dal fondo nero sul quale è presente una finissima granulosa lavorazione che tende ad assorbire la luce come effetto secondario lo fa avvolgere al grigio scuro che lo rende ancora più particolare ma la stessa opacità la si ritrova anche su tutti gli accenti presenti a contrasto e questa è una caratteristica poco vista una uniformità di colore dovuta alla scelta del beige e alla finitura ruvida presente sia sugli indici che sulle sfere una lavorazione omogenea che non differisce di una virgola non importa se ti chiami lancetta o numero arabo il beige opaco ti ricoprirà totalmente questa generale uniformità è quindi la responsabile primaria dell'aspetto austero e semplice del quadrante una rigorosa serietà che trova l'unico punto frizzantino nella tridimensionalità dei numeri arabi appaiono chiaramente in rilievo e proiettano anche una consistente ombreggiatura sul dial da notare l'estrema pulizia del taglio sono nitidamente squadrati e perpendicolari al piano quadrante senza smussatura o addolcimento di qualsiasi tipo vi sono poi dei dettagli chiaramente riconducibili allo stile imperante quasi cento anni fa come la minuteria chemin de fer è la scelta di utilizzare il logo tissot introdotto per la prima volta nel 1931 stampato piatto e quasi timidamente integrato nel piano quadrante allontanandoci possiamo poi constatare come la leggibilità sia più che ottima e la simmetria perfettamente in equilibrio l'importante è non pensare che al di sotto c'è ancora il disco data tutto ciò porta alla conseguenza che non vi è alcun tipo di luminescenza al buio non è leggibile non credo sarebbe stato possibile ottenere un risultato cromatico così omogeneo utilizzando alcuni accenti in superluminova secondo me si sarebbe riscontrata una leggera differenza di tonalità che avrebbe inficiato l'uniformità delle finiture così come sono adesso d'altra parte non mi sembra neppure un orologio che necessiti di luminescenza si tratta della celebrazione dello stile classico vintage è una scelta di questo tipo ci può stare su quella falsariga si muove anche cinturino che vede la più adatta fibia ed ardiglione il luogo di una deployant moderna scelta che ben si abbina sia allo stile generale che a quello del cinturino in pelle di per sé si presenta con la parte esterna rugosa e quella interna a contatto con il polso liscia è veramente morbido e ben fatto si adatta da subito al polso senza dover attendere che il tempo lo renda più elastico come sovente può accadere unica concessione alla contemporaneità sono le spring bars a sgancio rapido che sono molto utili e comode ritengo sia una caratteristica piuttosto valida specie se prodotta dalla casa madre non ho invece particolare fiducia nelle spring bars rapide proposte sui cinturini aftermarket sono alquanto instabili possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali come sovente dico l'orologio perfetto non esiste e come avete visto anche questo orologio ci sono delle ombre dei punti deboli diciamo quello del super luminova lascia un po il tempo che trova che siccome fa anche rimano nel senso che di un orologio così in stile vintage heritage no retro anche se non c'è il luminova che ci frega anzi è proprio stilisticamente coerente però magari se nella vostra testolina c'è il pensiero si questo si illumina al buio no questo non si illumina al buio quindi non fa per voi in quel caso lì che però insomma da punto debole un po pre testuoso che ci abbiamo messo quello dello scatto data della corona lo scatto fantasma invece un pochino più pesantino soprattutto concettualmente perché poi a comprarlo un orologio così che ce frega ce ne sbattono gli scatoloni anch'io orologi con lo scatto d'alto fantasma ad esempio il calamai mc 72 che ho allo scatto data fantasma no ce l'ha lasciato poi quelli nuovi non c'è più quindi non vi preoccupate voi che temete questa sventura però per dire non è un deal breaking per me poi per altri può esserlo però sappiate che lì c'è lo scatto data fantasma concettualmente potevano farselo fare da et al calibro senza lo scatto dato la data no ci voleva niente ci voleva poi c'è un terzo punto debole che quello è un pochino strano è strano perché non mi è mai capitata una cosa del genere ossia il calibro incassato e cosc certificato cosc certificato cronometro però a guardarlo non ha le finiture di un calibro top grade cioè non ha il perlasio sui punti non ha le viti azzurate si vede che non è rifinito a puntino come i calibri top che di solito si utilizzano perché perché per certificare il calibro cosc si utilizza il calibro top grade miglior rifinitura possibile regolato sistemato mandato in laboratorio che torna indietro in questo caso basta guardarlo quindi cioè non è una supposizione basta guardarlo il calibro non è decorato quindi la mia supposizione quale è che non abbiano utilizzato un calibro rifinito per risparmiare hanno utilizzato le bosce grezze grezze poco poco rifinite e l'importante era certificarlo cosc che funzionasse precisamente tutto questo probabilmente anche perché non parlo mai di prezzi ma 895 di listino 895 per un orologio tisso cosc sono pochi cioè lo dico sono pochi e non mi tirate dietro le pietre ma mi sembrano pochi quindi da qualche parte dovevano risparmiare e secondo me questo è un risparmio non so quanto di quanto perché edda fa parte del gruppo quanto vuoi risparmiare però è un risparmio questi sono i punti deboli che ho riscontrato io a proposito della scatto data una volta che io ho guardato lo scatto da che c'è lo scatto data sono andato a cercare in tutta internet le recensioni dei vari portali super portali mondiali no quelli fratello watches odinchi monochrome nole i portali quelli numero uno e nessuno di questi viene menzionato il fatto che c'è lo scatto data fantasma a riprova che quelli lì non sono recensioni sono semplicemente dei dei comunicati stampa che si mettono a leggere per fare il lancio dell'orologio esce l'orologio quel giorno loro ce l'hanno già a disposizione scrivono le caratteristiche tecniche bla 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 fotografie belle fatto non ti vanno a cercare i punti deboli punti in ombra c'è da fidarsi sì ma l'appassionato vuol sapere se c'è lo scatto data poi sta lui decidere se comprarlo o no perché gliene può anche fregare di meno ma intanto diciamoglielo questo l'orologio c'è lo scatto dato fantasma poi ognuno faccia come gli pare secondo me questo mi inorgoglisce quando faccio le recensioni io i punti deboli li dico perché tanto cosa ce ne frega ho detto tanti di quei punti deboli di tutti gli orologi e poi li hanno venduti ugualmente non è che se il davide dice che c'è lo scatto data non si vende più l'orologio aiuto 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 no non funziona così qua bisogna dire la verità le cose come stanno io sono orgoglioso di dire che dico le cose come stanno ora poi punti deboli diamo anche una leccata ti sui punti deboli l'abbiamo detto i punti forti sono tanti e bello orologio finiture della cassa esterna satinata paura sottilissimo compatto al polso sta bene poi c'è quello stile heritage vintage retro proprio equilibrio simmetria sul quadrante pulito no è un bello orologio il cinturino di qualità cioè tutto il resto è perfetto no quindi fate soppesate i più e i meno i plus e i minus i pro e contro lo dite tutto e poi decidete voi ognuno faccia come gli pare ma poi a me cosa me ne frega ma devo fare tutto io devo dire tutto io ognuno decida per sé no mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video il contesto il presentatore e anche l'orologio diciamo non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love